oh che cos'è quello? che miseriaccia bestia dove è andata? eccolo la mi sa che è in aereo è spuntato ah lì e lì e lì vediamo se riesco a prenderla aspettate eccolo eccolo ci ha fatto desegno eh no l'avete visto? no quell'altro era una stella cadena vabbè questo via aspettate bestia dai fateci un segno che siete voi eccoli rispondeteci un cambio di rotta qualcosa declatante cavolo bello beh eh eccoli eccoli è la solita astronave che passa di qua e stavolta è la prima volta che da destra vai verso sinistra quindi ancora più fantastica sì sì sono loro ragazzi fantastico ciao un saluto da tutti noi eh belli i fratelli i signori delle stelle guardate guardate come padroneggiano la vastità del cosmo mamma mia che spettacolo hanno cambiato rotta avete visto che sono scesi un po' belli 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 ciao bello ma che cosa vi devo raccontare c'è poco da raccontare adesso li faccio cade via mi fulminano il laser al tocchè ciao 1 2 3 vediamo se ci rispondono al 3 no no non scomparitevi prego scendete giù come l'altra volta scendete giù no non scendete giù hanno fatto due lampeggi avete visto? no non andate via orca bestia no aspettate che mi espongo cavolacci dietro la montagna tanto più di la non potevo andare allora così vediamo qui successo mi Grazie a tutti.